Anche la denominazione Altiscaffali di questo ciclo di conferenze è dovuta al fatto che noi abbiamo cercato di coinvolgere in questo ciclo i numeri uno attualmente del giornalismo e di varie discipline. Si chiama Altiscaffali e porterà in città nomi di grande prestigio, due gli appuntamenti del ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Città di Arezzo, dalla Fondazione Guido di Arezzo e in collaborazione con Feltrinelli Point. Il primo settembre sarà ospite Alessandro Barbero con l'incontro dedicato a Brickford Stone, il suo ultimo libro con al centro l'attentato alle torri gemelle. La seconda conferenza il 16 settembre con Federico Rampini che avrà per titolo Africa dove si gioca il nostro futuro. C'è bisogno oggi più che mai in un contesto dove le informazioni che ci arrivano spesso sono eterogenee, contraddittorie, spesso sono delle fake news. Cioè notizie fasulle, di riflettere sulle notizie stesse in maniera tale da renderle conoscenze efficaci nella vita anche personale delle persone. E quindi abbiamo bisogno anche degli intellettuali. Ad ospitare agli incontri la fortezza di Arezzo. Quindi queste sono due ciliegine che vengono aggiunte a una stagione estiva che prolunga ed offre ad Arezzo e non solo un'offerta, mi sento di dire, culturale importante.